Buonasera, buona domenica sera a tutti i nostri telespettatori, facciamo un po' il punto della situazione di quanto è accaduto oggi fino a questo momento, stavolta non partiamo dalla questione pistoiese, dal caos pistoiese, gli arancioni oggi non sono scesi in campo e quindi saranno eliminati dal torneo di Serie D, dal campionato di Serie D, ma ne parleremo fra poco, parliamo invece di cronaca, poi con tutte le altre notizie sportive come sempre la domenica, parliamo di cronaca con l'associazione Angeli del Bello che nasce anche a Pistoia. Uniti per il decoro urbano, gli Angeli del Bello hanno iniziato il loro corso anche a Pistoia, dopo la già diffusa presenza in varie città italiane, presentando anche il neonato gruppo pistoiese. In particolare si tratta di un'associazione che opera sui territori a difesa e tutela del decoro urbano, con volontari pronti a rimuovere sporcizia dai luoghi pubblici, cercando di abbattere il degrado e salvare parchi, vie e piazze dei nuclei storici. Il tutto con un'iniziativa dal nome Sabati del Decoro, dove gli Angeli del Bello scendono in campo ed operano il cammin pulendo, dal loro così chiamato, ovvero la rimozione dei rifiuti partita a Pistoia dalla storica piazzetta Sant'Atto e proseguita poi per gli altri luoghi del centro. Ci stiamo organizzando per fare una cosa più capillare attraverso la scuola, attraverso i ragazzi, attraverso gli scout, attraverso tutte quelle associazioni che possono fare gruppo. Chiunque può partecipare abbiamo una semplice quota che copre semplicemente l'assicurazione. I nostri eventi si chiamano Cammin pulendo Sabati del Decoro, ma non è l'unico evento, ma è l'evento di aggregazione. Le date prossime saranno il 4 di maggio, quella successiva a settembre. Ho visto prima che stavate lavorando, che rifiuti avete trovato? Le cicche, quelle normalmente. Poi abbiamo trovato un po' di tutto. Abbiamo trovato plastica soprattutto, abbiamo trovato carta e quindi anche indifferenziata. Praticamente un po' tutti i rifiuti che siamo abituati invece di buttarli nel cestino, buttarli a terra. Ma quello non sarà il nostro lavoro, il nostro lavoro sarà l'inizio. Noi vogliamo pulire la nostra città, ma la vogliamo anche rendere bella. Quindi praticamente la pulizia è la prima cosa e poi la vogliamo abbellire. Io sono qua apposta per dire grazie agli Angeli del Bello di Pistoia e per coronare questa giornata che vede proprio la nascita degli Angeli del Bello anche a Pistoia. Quindi contentezza per me e per tutti gli Angeli del Bello che ormai sono in tutta Italia. Po' di cronaca, scontro automoto nel tardo pomeriggio in via di campo al confine fra i comuni di Uzzano e Pescia. Siamo in località a Chiodo. Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati, sembra frontalmente. Il giovane centauro di 18 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cosme e Damiano. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'automerica e della pubblica assistenza di Uzzano e Pescia. Per i rilievi c'erano i vigili urbani di Pescia. Vigili del fuoco del comando di Pistoia di staccamento di Montecatini in azione nel pomeriggio per un incendio di un'autovettura avvenuto davanti al casella autostradale all'uscita di Montecatini. Il tempestivo arrivo della squadra delle vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme in pochi minuti limitando l'incendio alla sola parte anteriore del mezzo. Il conducente non ha riportato ferite perché quando si è accorto del fumo è immediatamente sceso dall'auto e ha chiamato ai soccorsi. Per gestire il traffico sul posto c'erano gli agenti della polizia stradale e il personale della società autostrade. Andiamo sull'appennino tosco emiliano, andiamo un pochino più in là, in Emilia, in provincia di Modena, dove è stato inaugurato il nuovo ponte di Casalino. A Fiumalbo è stato inaugurato il nuovo ponte di Casalino alla presenza del vice ministro delle infrastrutture, onorevole Galeazzo Vignani. Interventi come questi consentono una infrastrutturazione significativa in territorio dove riteniamo essenziale garantire non solo la presenza dei servizi ma anche una possibilità di accesso. Il governo crede davvero nelle zone interne e queste risorse sono stanziate bene per garantire la continuità della comunità che è bene, che presidi il territorio. La realizzazione del ponte è stata finanziata con i contributi del Ministero dell'Interno per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio confluito nel PNRR nella misura M2C4 per un importo di 659.870 euro al netto dell'incremento previsto per l'aumento dei costi dei materiali del 10% circa. Le condizioni strutturali e la vita utile del vecchio ponte ormai erano arrivati al punto di non ritorno, non era possibile fare una ristrutturazione per cui si è pensato di costruire un nuovo ponte, in questo modo però c'è stata anche l'opportunità di creare una viabilità alternativa al centro storico di Fiumalbo. La realizzazione della strada doppia corsia che da questo ponte porta al seminario permetterà di estendere la pedonalizzazione del centro storico perché Fiumalbo è bello per essere vissuto turisticamente dalle famiglie a piedi in maniera slow. Il comune di Fiumalbo esaurisce la risorsa del PNRR già citata che prevedeva un milione di euro di disponibilità finanziabile per comune con quest'ultimo progetto approvato per 400.000 euro con il quale riesce a mettere in sicurezza la sponda destra del rio Aquicciola e la sottostante viabilità di servizio del centro storico nel tratto che da nuovo ponte porta al seminario oltre all'asfaltatura di parte del piazzale che resta adiacente alla strada dove saranno disegnati stali di parcheggio e installate aiuole atti a organizzare la destinazione d'uso dell'area oltre a garantire la corretta fruizione del marciapiede lungo il fiume. Servirà proprio per evitare che le auto in determinati periodi passino da Piazza di Olanda, un'altra piazza molto importante dove è stato piantato la bette quando nacque Iolanda di Savoia e che comunque è l'estensione naturale del nostro centro. La circolazione ferroviaria sull'intera linea tra Pistoe e Porretta Terme sarà sospesa dal 15 di aprile, quindi da domani all'8 giugno per interventi di rinnovo binario tra Castagno e Corbezzi. Prevista o è possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus che effettueranno il percorso tra le due località con transito via Pracchia e via Collina. i lavori costeranno alla fine 3 milioni di euro, questo quanto dice Rete Ferroviaria italiana Trenitalia. Parliamo di un libro di Larissa Vannucci, briciole di pane. Abbiamo incontrato nel parco del Villon Puccini di Pistoia Larissa Vannucci per farci raccontare l'ultimo dei suoi tre romanzi scritti, briciole di pane. Ex commerciante ha affiancato i genitori nello storico negozio della sala, la casa del rasoio. Insegna danze standard e latino americane, attrice del laboratorio teatrale Razzolare a Vambera. Sono tante le tue passioni, ma quella della scrittura come nasce? Ho sempre scritto da adolescente il diario, da più grande ho cominciato a scrivere un pochino più strutturata, ma non avevo mai trovato la voglia o il coraggio, se si può dire, di pubblicare qualcosa. Riciole di pane, di che cosa parla? È la storia di una donna che è sempre con la valigia pronta perché non ha risolto alcune problematiche della sua vita, lei ha lasciato per paura un amore, un grande amore, va in un posto nuovo, si accorge che una relazione potrebbe diventare una cosa più seria, più strutturata, non dà spiegazione a nessuno, prende, fa la valigia e va via senza lasciare recapiti e poterla rintracciare perché non vuole che la relazione possa attraversare lo scalino e lo successivo e diventare importante. Gli altri due come si intitolavano? Quello prima di questo, Rami e Radici e quello ancora prima, Aurora allo specchio. In tutte e due casi comunque sono sempre queste donne che hanno un po' queste difficoltà, che hanno dei rapporti, specialmente con il sesso maschile, un po' difficoltosi. Chiaramente tu ci entri dentro sotto varie metafore, quindi te non sei solo il personaggio principale, ma magari sei un pezzettino in ogni personaggio che tu vai a raccontare. Questo per esempio è un libro che indirettamente è dedicato a mio padre, come quello precedente, Rami e Radici era indirettamente dedicato a mia madre. Piano piano metto a posto vari nodi che nella vita ognuno di noi ha. La pagina sportiva inizia con Sport e Cronaca, se vogliamo andare a vedere bene, con una partita non giocata, ce lo aspettavamo, ma è sempre triste parlare di sport in questo modo. Questo Pistoiese San Giuliano City che non c'è mai stato, già da Benesperi. Alla fine è successo quello che era nell'area. La Pistoiese non si è presentata all'appuntamento al Marcello Melani in programma oggi, la partita della 31esima giornata del campionato di serie di Gironedì, la partita contro il San Giuliano City. E così, dopo i primi 45 minuti che da regolamento devono essere rispettati per attendere la presenza di entrambe le squadre, il direttore di gara, il signor Simone Palmieri di Avellino, ha effettuato il tripice fischio, dichiarando di fatto alle 15.45, quindi, la fine della gara, che in realtà non c'è stata, perché solo gli ospiti si sono presentati effettuando un lungo riscaldamento. Scatterà così la sconfitta a tavolino per gli arancioni, ci sarà una penalizzazione in classifica, ma tutto ha poco senso ormai, perché essendo questa la seconda rinuncia da parte degli arancioni, da regolamento la Pistoiese sarà esclusa dal campionato e non solo, ci saranno anche altre importanti conseguenze, come quella della perdita del titolo sportivo. Possiamo dire che si è sancita oggi la fine del club arancione, un triste epilogo, ma purtroppo forse annunciato. Nelle ultime ore, quelle della vigilia della partita, scenari che si erano palesati, facevano pensare a questa fine. La squadra non si è allevata né venerdì né sabato. Problemi economici, problemi societari, legati anche alla mancanza di dirigenti in società che avrebbero potuto permettere lo svolgimento di questa partita. Tutto però è partito mesi fa, è partito dall'arresto dell'ex garante del Trust Orange, Maurizio De Simone, e non solo, altri indagati, altri personaggi vicini alla società sono indagati in una vicenda giudiziaria che sta facendo il suo corso e che porterà, secondo quanto è stato affermato anche dal procuratore della Repubblica di Pistoia, all'istanza di fallimento della Pistoiese. Ci sarà tutto da ricostruire, chissà come e quando ripartire. Intanto però ci lasciamo con queste immagini del Marcello Melani, desolato, vuoto, così come vuoto e triste è ovviamente il clima che si respira intorno ai colori arancioni, intorno alla storia della Pistoiese. Con tanta delusione, amarezza, rabbia da parte anche dei tifosi della città che ha a cuore i colori arancioni, con una domanda che resta su tutto se questo poteva essere evitato. E così purtroppo siamo, Giovanni, arrivati a quello a cui non avremmo voluto arrivare, un epilogo triste, una triste pagina della storia della Pistoiese, la più triste forse? No, sicuramente la più triste in assoluta, nei 103 anni, il compleanno l'avrebbe compiuto la settimana prossima, il 21 di aprile, mai la Pistoiese era stata esclusa nella sua lunga storia dal campionato, aveva avuto problemi fallimentari, ricordiamoli per gli amanti delle statistiche, addirittura il primo nel 1937, poi più vicino ai nostri giorni nel 1988, l'ultimo nel 2009, ma il campionato l'aveva sempre concluso, era stata retrocessa, per amore del cielo, perché il campo è l'unico che dà il risultato finale, non aveva più le condizioni per poter essere iscritta, ma aveva sempre portato a termine la stagione calcistica, cosa che invece quest'anno non è accaduto, ed è la prima volta ed è, a mio modo di vedere, un fatto gravissimo. Poi il tempo è galantuomo, lo sappiamo, se riusciremo a ricostruire, perché il problema non è il fallimento, il problema è la ripartenza, la rinascita, magari fra qualche anno questo periodo bruttissimo della storia della Pistoiese sarà dimenticato nella speranza di ricordare i bei, spero, futuri tempi che la Pistoiese potrà nuovamente far vivere ai tifosi della Pistoiese, che lo meritano, di arrivare in gradatorie più alte rispetto anche alla Serie D, almeno a campionati più professionistici, e tutto questo sarà passato nel dimenticatoio con tutto quello che è successo nel campo e purtroppo anche fuori dal campo. E allora sì, se c'è una speranza, quella che ci tiene viva, quella che ci tiene ancora attaccata a questi colori, è quella proprio, che ci sia un futuro più rosio e più felice per la Pistoiese, per la città e per i tifosi, che si meritano sicuramente altri scenari. Sicuramente sì, perché il calcio a Pistoia non può finire. Una piazza storica, ricordiamolo, sono passati da questo campo sportivo, o meglio stadio, tanti giocatori, tre campioni del mondo, Marcello Lippi, Giuseppe Dossena, Barzagli, poi tantissimi altri giocatori che sono stati importantissimi nella storia del calcio della Serie A, Allegri, Mazzarri, Pioli, tanto per ricordarne qualche d'uno, gente che sicuramente ricorda gli trascorsi a Pistoia, attualmente, anche se sta ricoprando cariche prestigiose nei club, dove tuttora lavorano. E tutto questo non può essere assolutamente dimenticato, è messo in un cassetto e rinchiuso in un armadio di soffitta. Ora tutto dovrebbe essere rizzettato, come dicono quelli che parlano bene, tutto riparte da zero. E allora vediamo chi prenderà le redini di questa squadra, riuscirà, speriamo, una volta per tutte, a ricostruire qualcosa di veramente importante, qualcosa che coinvolgerà nuovamente il pubblico di Pistoia a ritornare allo stadio, perché sappiamo tutti, e ne dimostra anche il Bologna in questi ultimi mesi, che quando una squadra va bene e lotta per traguardi ambiziosi, la gente ritorna allo stadio e si risente attaccata. Perché anche in questi ultimi anni di Serie D, Giada tu lo sai, tutti ci chiedevano comunque alla fine che cosa faceva la Pistoiese, anche gente che era anni e anni che non veniva alla Pistoia. Quindi un legame quasi da un bellico, come unisce un figlio alla madre che sta per metterla al mondo, non si dimentica la Pistoiese e speriamo di non dimenticarla anche in questi momenti, che come tu hai detto te, sono al massimo della tristezza. È questo che ci vogliamo augurare, che inizi un nuovo percorso, sì che lo inizi perché sia un percorso pulito, virtuoso, con progetti seri e con persone che vogliono bene a questi colori. Su questa triste vicenda, sportivamente parlando ovviamente, che ha riguardato la Pistoiese, è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tomasi. Oggi prendiamo atto dell'epilogo che pone fino a un'agonia andata ormai ben oltre a qualsiasi scenario immaginabile, ha scritto il primo cittadino. Quanto successo con lo stadio disponibile e con la prospettiva di scendere in campo dimostra ancora una volta quanto la responsabilità di questa fine stia nella gestione portata avanti da De Simone. Adesso occorre ripartire, lo si può fare solo con persone e imprenditori seri. Non resta che lavorare per questo, nel nome dei colori arancioni della città e del tifo sano che ha sempre accompagnato la Pistoiese. In tutta questa situazione societaria surreale c'è anche una Pistoiese che vince. Si tratta dell'Under 17 che si è giudicata al campionato dominando il girone sci e laureandosi campione regionale. A dare la matematica certezza del titolo per i giovani arancioni è stato il largo successo ottenuto stamani all'Idoica Maiore. 7 a 1 la straordinaria stagione è stata evidenziata dagli 83 punti conquistati in 31 giornate dal miglior attacco. Pensate, 111 reti dalla miglior difesa. Torneremo fra poco a parlare di calcio con le altre notizie. Intanto il basket, facciamo un passo indietro, torniamo alla gara di Pesaro dell'Estra Pistoia. Pesaro che è diventata proprio una vera bestia nera in questa stagione, avendo vinto tutto e due le volte con i biancorossi. Leonardo Cecconi. Carpegna-Pesaro batte Pistoia per 89 a 82. È stata una Pistoia che non ha giocato sicuramente la sua miglior partita. È partita un po' ad handicap, non ha messo la necessaria attenzione all'inizio. Ha subito un meno 17 dopo un paio di minuti del secondo tempo. Da quel momento ha cercato di rientrare in partita, lo ha fatto piano piano, tornando anche al meno 2, 84-82, quando mancava un minuto e 25, però in quel momento è stata brava Pesaro a rimanere davanti. Per Pistoia fondamentalmente non cambia niente, rimane decisamente in lotta per i play-off. Adesso altre tre partite, due al Palacarrara, una contro Brindisi e una contro Varese. per Pistoia i migliori Obeyde con 18 punti, 17 di Willis, 15 di Murp per Pesaro. Come ho detto, il miglior marcatore, Mazzola con 17. Jordan Varnado non ha giocato moltissimo, sapevamo che aveva dei problemi. Dall'altra parte, coach Meo Sacchetti, che ha festeggiato le 400 presenze sulle panchine della Serie A. Siamo stati bravi a riprenderla, a rigiocarla ai possessi. Abbiamo messo molto focus sui rimbalzi d'attacco, purtroppo nel quarto quarto, nei momenti decisivi, dopo dei buoni stop difensivi, sono stati molto bravi loro e un pochino polli noi a non fare tagliafuori come si doveva e quindi concedergli un altro attacco che chiaramente ci ha costato la partita. È chiaro che se vuoi ambire ad andare ai play-off devi avere una fame diversa di quella che abbiamo avuto oggi. Abbiamo adesso prossime tre partite, due in casa e sicuramente ci faremo trovare pronti. Andare subito in vantaggio, capire che potrebbe essere una buona domenica un minimo di pressione alla toglie. Nello stesso tempo ci siamo un po' seduti sugli allori e abbiamo avuto pistole alle calcagne alla fine, quindi è stata veramente dura portarla a casa, però credo che sia stata nei 40 minuti una partita ottima da parte nostra. Abbiamo avuto un atteggiamento da una squadra che si vuole salvare e da una squadra che sta dando tutto, quindi è un buonissimo segnale. Visto che stiamo parlando di basket, andiamo in Serie B nazionale. Oggi penultima giornata di regular season, due sconfitte, purtroppo, ma due sconfitte di misura. Intanto quella di Livorno nel big match della giornata con l'APL che ha battuto la Fabo Arons 91-87 dopo un tempo supplementare a Rigoni per gli Arons 19 punti e 13 rimbalzi per la squadra labronica capolista Rubini e Lobiondo con 14 punti, i migliori marcatori per la squadra di Federico Barsotti. Terzo posto ormai acquisito, la consapevolezza anche di potercela giocare con tutti. E' andata male la gara interna della Gemma Montecatini che è stata battuta contro da Avellino. 61-59 partita, strappi con finale punto a punto, 12 punti di passoni per la squadra di Cocce del Re come miglior marcatore della sua squadra. Punteggio bassissimo come avete visto dal finale. Quarto posto non so se è ancora in bilico perché ha una giornata dal termine proprio Avellino che ha battuto la Gemma e ha due punti dalla formazione termale. non ricordo gli scontri diretti ma domani torneremo sull'argomento con un servizio specifico sulla Serie B per fare il punto della situazione a un turno dal termine della stagione regolare. Torniamo al calcio, in questo caso alla Serie D. Si è giocata la partita dell'Aglianese ovviamente in questo caso nessun problema, solo qualche problemino in campo nel senso che i nero-verdi di Mister Baiano non sono andati oltre lo 0-0 con l'ultima in classifica mezzolara. Il pareggio a reti inviolate quindi tra due squadre praticamente senza obiettivi di classifica. I nero-verdi sono tranquilli a metà gradatore e gli emiliani sono ormai retrocessi. La partita è scivolata via senza troppe emozioni. Chiudiamo con il calcio di eccellenza, due risultati buoni per le formazioni della nostra provincia. Il Ponte Bugionese ha pareggiato in Garfagnana 1-1 contro River Pieve, un pareggio che non è altro che un altro passo importante verso la salvezza diretta. Successo per la Vadinevole Montecatini contro lo Zenit Prato per 1-0, di Volpi la rete decisiva, un colpo importante per i termali che a due turni dal termine tornano a riaccendere una speranza sia pur minima di salvezza diretta. Comunque fanno un bel salto in avanti verso il quarto-ultimo posto che potrebbe essere importante nel caso degli spareggi salvezza. Nello stesso girone però Lanciotto Campi, Castelfiorentino, è stata sospesa intorno al quarto d'ora a causa di un malore che ha colpito un giocatore della squadra ospite. Si tratta dell'attaccante Mattia Gianni. Le prime notizie purtroppo parlano di condizioni gravi. Il giovane è ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Speriamo ovviamente che le prossime notizie siano migliori, però la situazione non è certo facile. La partita è stata ovviamente sospesa. Nessuno se l'è sentito di andare avanti ci mancherebbe. Oggi è successa una cosa simile anche per quanto riguarda il campionato di Serie A fra Udinese e Roma. Ma qui il giocatore che si è sentito male ha dato poi segni, si è ripreso, ha dato segni importanti in senso positivo. Speriamo ovviamente che questo ragazzo migliori nelle prossime ore, nelle prossime minuti. Ci fermiamo qua. Grazie per averci seguito a tutti. A questo punto buonanotte. Grazie a tutti.